e adesso entreremo un po' più in dettaglio nel mondo dei sistemi informativi geografici. Ovviamente il mio essendo un modulo introduttivo ed essendo la platea di Somogenea a livello di conoscenze al riguardo, cercherò di fornire le nozioni base e gli strumenti per accedere ai successivi moduli che saranno di stampo più tecnico-applicativo per le persone che si avvicinano al GIS o adesso o quasi e cercando di dare anche dei link, degli spunti, degli input alle persone che invece già lo utilizzano e già ce la vedremo. Nel dettaglio, cercando anche di non sovrappormi alle cose già dette dal professore, vedremo oggi che cos'è un GIS e il suo potenziale applicativo, i tipi di dati, i modelli di rappresentazione e le relazioni spaziali. E domani invece passeremo ad analizzare i sistemi di coordinata, i sistemi di riferimento, le tabelle e la loro gestione, i principali strumenti operativi di analisi che si possono fare con il GIS, la simbologia cartografica, quindi come costruire una mappa di layout di stampa, l'introduzione al creamento, il sistema è sempre estremamente connesso ai sistemi informati geografici, gli standard e il GC e per finire delle risorse su web, le cose che si può trovare, i dati pubblicati, le cose che possono essere utili e alcuni dei cittadini di politica produzione. Allora, iniziando da che cos'è GIS? GIS è l'acronimo forse geografica e l'information system, quindi i sistemi informativi geografici. Ma che cos'è un sistema informativo? Un sistema informativo è un strumento per generare delle informazioni a partire dal banco dati, attraverso le strutture relazionali. Se a questo sistema noi aggiungiamo la componente geografica, otteniamo un sistema informativo geografico, che appunto serve a descrivere e generare informazioni sul territorio, analizzando le relazioni spaziali che intercorrono tra gli oggetti e gli eventi, tutti gli eventi che hanno una componente spaziale, quindi non si tratta soltanto di, magari ecco, avendo un background naturalistico, però che riguardano il mio ambito, anche se poi è alla base della gestione territoriale, della progettazione territoriale. però ovviamente si tratta anche di, come già ha fatto vedere il professore, di una tecnica che può essere applicata a qualsiasi tipo di tematica che abbia una componente spaziale. Parlando di database geografico, abbiamo tre componenti principali. Allora abbiamo una componente spaziale, quindi le posizioni X e Y, eventualmente Z, non sempre compresa però l'elevazione, quindi del dato, viene in mezzo a pensare, quindi un rilievo topografico e quindi i dati sull'altezza sul livello del mare. E una componente semantica, che sono proprio gli attributi, e una componente relazionale, quindi le relazioni che intercorrono tra i vari oggetti geografici. Rispetto ai database tradizionali, è contenuta quindi la geometria degli oggetti e non soltanto gli attributi. Quindi la forza del GIS sta proprio nell'integrare le comuni operazioni di un database, che è quella di interrogazione, di fare analisi statistiche, con la visualizzazione, quindi della mia selezione, della mia interrogazione su un database. se questo, pensando oggi alle mole di dati che possono essere contenute dentro un database, è uno strumento di altissima rilevanza, perché comunque puoi generare una mappa, generare una mappa, comunque c'è una visualizzazione immediata del dato, che permette comunque delle analisi successive, di arrivare a dei livelli più avanzati di informazione. Allora, veniamo un po' alle componenti. Abbiamo una componente hardware, che può essere un singolo PC, oppure un sistema client-server. Poi abbiamo il software, che ci sono gli strumenti, le estensioni, atta di maltenzinare, visualizzare, analizzare i geodati. Poi abbiamo i dati veri e propri, che possono essere già dati che sono stati elaborati da terze persone, che quindi magari sono stati pubblicati e quindi sono a nostra disposizione. Oppure possono essere dati che produciamo noi, quindi con i nostri rilievi. Poi abbiamo i metodi, quindi le metodologie diverse, per obiettivi diversi, ovviamente, a seconda delle finalità degli studi. E le persone. Qua, però, io ho voluto distinguere, c'è un personale che si interessa proprio della gestione, poi il mantenimento di un sistema informativo, e quindi che permette l'aggiornamento dei dati, la pubblicazione dei dati. E poi ci sono gli utenti che utilizzano i prodotti. Ora, se uno va a cercare su internet una definizione, non esiste una canonica o una che esclude l'altra, non esistono migliaia di definizioni, forse questa è una delle più complete. E che quindi un sistema informativo geografico è un insieme complesso, delle componenti, ecco, hardware, software, risorse umane, intellettive, per permettere l'acquisizione, l'immagazzinamento, il processamento, che sottolineava anche il professore, l'analisi, la visualizzazione e la ristituzione di informazioni derivanti da dati geografici. A questo punto mi preme fare una piccola distinzione tra un altro acronimo, che è SIT, sistema informativo territoriale, che spesso si ritrova nei documenti su internet e viene a volte, l'uso viene utilizzato in modo improprio, perché viene utilizzato come sinonimo di GIS, ma c'è una sottile differenza. Perché i sistemi informativi territoriali esistono da secoli, perché comunque sempre si è capitato in passato ovviamente di immagazzinare, analizzare dati, anche spaziali, però ovviamente si utilizzavano degli strumenti diversi. E quindi il GIS è un po' da considerare la parte informatizzata, la parte informatica di un sistema informativo territoriale. Ora GIS, quindi con questo acronimo possiamo intendere un tipo di sistema informativo, quello territoriale, un software, e ce ne sono diversi tipi, ora li vedremo. E poi un tipo di approccio, un approccio analitico di tipo spaziale. Ora del tipo di sistema ne ho già parlato, adesso passeremo a vedere i tipi di software. Allora al mercato sono disponibili tantissimi software i più diffusi sono ArcGIS della ESRI, Geomedia della Intergraph, MapInfo, però ovviamente questi sono dei software a pagamento che hanno altissime prestazioni, ma ovviamente hanno costi elevati. E poi ci sono una serie numerosa di prodotti open source, quindi programmi completamente gratuiti che ciascuno di noi può scaricare sul proprio PC. I utilizzati sono QGIS, GRASS, di VAGIS. Ora, ad esempio, questa è una piccola parentesi di VAGIS, per chi è interessato a analisi di dati biologici, quindi analisi ecologiche. È un prodotto molto interessante perché è stato proprio costruito ad hoc per questo tipo di analisi. E molto spesso, anche se ovviamente la differenza con i prodotti a pagamento è una minore qualità a livello di possibilità di fare delle analisi o comunque di gestione di grosse mole di dati. Però se appunto uno non ha a che fare con grosse, quindi parlo di milioni di record, si può utilizzare di VAGIS, anzi ha dei tool proprio ad hoc e sono molto più immediati, quindi le analisi che uno potrebbe fare invece con un software VAGIS. Quindi alla fine molto spesso succede che vale un po' caso per caso. Se un progetto può benissimo essere svolto con un open source, dipende appunto dalla tipologia di dato che abbiamo e degli nostri scopi. Quindi ovviamente hanno questi limiti, però dipende caso per caso che cosa si può utilizzare. L'approccio analitico di tipo spaziale. Ovviamente la distribuzione spaziale è una delle caratteristiche fondamentali per descrivere un fenomeno, che può essere naturale, socio-economico, di tanti tipi. Ora qui solo un esempio molto schematico e forse riduttivo. Qua era soltanto per dire che ad esempio se prendiamo due aree, presumibilmente con la stessa estensione in ettari, ma sono distribuite in modo diverso e noi le consigliamo due aree protette. E quella, la parte centrale, la parte in cui non c'è il cuore dell'area protetta, in cui non si può entrare, non si può fare via un albero caduto proprio per fini conservazionistici, ovviamente se a seconda della distribuzione abbiamo i fenomeni diversi, perché nel caso B ovviamente la massima estensione possibile di questa coraria è molto più piccola che nel caso A e ci possono essere molti più influenze, penso a livello antropico proprio rispetto alla figura A. Oppure ad esempio in questa figura ci sono due boschi distribuiti in modo che è stato diversamente e anche qui si possono fare, potrebbe essere indice di cose diverse, che potrebbe essere legato alla biologia di quell'albero, che quindi nel primo caso si diffonde in maniera, che ne so, anemofila, quindi con il vento e quindi riesce a coprire delle zone più ampie, mentre nel secondo caso si riproduce soltanto al piede della planta madre e quindi ovviamente avrà una distribuzione più concentrata, oppure sarebbe il caso di andare a analizzare e vedere se ci sono delle barriere a livello fisico-chimico o geografiche che possono giustificare quella distribuzione. Anche in questo caso potrebbero essere dei gruppi di alberi e allora potrebbero costituire una barriera per alcune specie e per altre no. Insomma quindi alla fine studiare le relazioni tra diversi oggetti ci permette di approfondire e di arrivare a dei livelli di conoscenza superiori. Ora brevemente perché è già stato affrontato dal professore l'etappe fondamentale della nascita del GIS, abbiamo nel 1963 il primo sistema informativo territoriale che era canadese, il CGIS, poi negli anni 60 un grosso contributo è stato apportato anche dalla CIA americana perché aveva e ha una grossa molle di dati comprendendo anche i confini politici, linee di costa eccetera e anche il censo statunitense. Poi abbiamo del 67 e del 69 due studi sull'end use di due stati degli Stati Uniti e anche questo è un altro progetto del 71 per la gestione delle strade ad alta percorrenza dello Stato di New York. Nel 73 nel Maryland nasce proprio un laboratorio, un istituto che si occupa di progetti GIS e la USGS che è un importante istituto statunitense per informazione a livello di geologica, a livello di scienze della terra e ecco comincia a sviluppare un grande database per le risorse terrestri. La prima conferenza internazionale si chiamava Autocarto e avvenne arresto nello Stato della Virginia. Poi viene fondata Erdas e la ESRI sgruppa il primo software GIS, Archinfo nel 78. Negli anni 80 Archinfo diventa pubblico, vengono sviluppati altri sistemi, Archinfo nell'86 è disponibile sul personal computer finalmente e poi a fine degli anni 80 iniziano le prime riviste scientifiche specializzate sui sistemi informativi geografici. Dal 90 oggi ovviamente con l'avvento di un'interfaccia grafica user friendly quindi si ampliano le possibilità di accesso a questo tipo di tecnologia. Il Libano nello stesso anno progetta con il GIS la sua rete elettrica nazionale. Nasce lo Xerox Park Map Viewer cioè Fetrapini Web Mapping nel 1993 e nascono anche a livello europeo delle varie organizzazioni che si occupano di GIS e dei sistemi informativi geografici. E ovviamente il moltiplicare delle tipologie di software, delle applicazioni stanno caratterizzando questi ultimi anni. Ora ovviamente il GIS ha avuto l'apporto di diverse, il contributo di diverse discipline dalla geografia alla cartografia, la fotogrammetria, la geodesia, la statistica, l'ingegneria, l'informatica e il rilevamento. Ovviamente è esemplificativo anche in questo caso in cui davanti a me ci sono studenti di tantissime diverse facoltà che quindi tutte quante convergono verso l'utilizzo di questo GIS. E quando nei progetti, quando si parla di punto gestione territoriale in generale è ovvio che ciascuno con il suo background può dare un apporto diverso e questa è una ricchezza. Però per essere poi alla fine un sistema fatto bene e che funzioni un progetto di questo tipo, ci deve essere sempre una persona, una figura professionale che riesca a tenere in mito tutte le varie competenze diverse, che riesca a far dialogare le persone con competenze diverse perché abbiamo ingegneri, informatici, naturalisti, biologi, persone che a volte hanno difficoltà anche a comunicare tra di loro. Quindi per costruire un buon sistema informativo geografico bisogna sia considerare tutti gli apporti che vengono dagli archeologi, gli architetti, ma anche una figura serve che riesca a farli dialogare insieme. Il grande potenziale applicativo risiede nella sua struttura funzionale, quindi la possibilità di sovrapposizione topologica, la possibilità di fare interrogazioni, le query, la possibilità di analisi geostatistiche ed interpolazione. Soprapposizione topologica. Allora, quindi con un GIS siamo in grado di visualizzare e sovrapporre diverse carte tematiche di una determinata zona, mantenendo la corrispondenza delle coordinate geografiche della scala e quindi delle distanze. Questi vari livelli informativi strati vengono chiamati layer e ogni punto su un layer concide con il suo corrispondente in uno o altri layer e tutti fanno riferimento al sistema di coordinate che noi abbiamo o che è stato utilizzato per costruire quel dataset o che noi decidiamo di utilizzare per costruire ex novo un sistema informativo. E quindi longitudine e latitudine è il nostro strato base. Un GIS è un sistema dinamico per la possibilità appunto di separare le informazioni dei diversi livelli, combinarle e combinandole trovare nuovi livelli di informazione. Si parla appunto di mappa algebra, quindi addizione e sottrazione di uno o più layer per ottenere un nuovo strato informativo. Ora vediamo da che cosa possono essere costituiti questi layers. Possono essere fotografie satellitari, possono essere fotografie aeree, possono essere immagini riclassificate, poi le vedremo caso per caso. Possono essere altre tipologie di mappe, può essere una vecchia carta scannerizzata importata dentro un sistema informativo, possono essere mappe derivanti dall'importare dei dati GPS, quindi dei punti, oppure possono essere altre mappe di tipo poligonale. Quindi una grande varietà di dati. Questo solo a titolo, per specificare, ecco appunto che attraverso lo scanner vengono importate le vecchie cartografie o comunque delle cartografie che non sono disponibili a livello digitale, oppure esistono dei tavoli con cui si digitalizzano dei punti magari di interesse, magari non mi interessa importare tutta la mappa, voglio soltanto importare dei punti, e lo si fa tramite questo strumento. Ovviamente anche prima si facevano queste sovrapposizioni, però si utilizzavano dei lucidi, erano comunque delle operazioni manuali, molto macchinose e ovviamente limitate, perché non avevano la possibilità di quello che riesce a fare un GIS oggi. Concretamente quindi serve un sistema informatico geografico a integrare le informazioni, a risolvere problemi più o meno complessi, a visualizzare scenari, quindi pensiamo anche a tutti i vari modelli di cambiamento climatico, quindi anche tra 50 anni, con le dovute caudele, uno deve prendere questi modelli, però comunque scenari futuri, validare e sviluppare ipotesi. Ora ecco, volevo fare un'ottima carrellata di tutto il potenziale obbligativo. Ovviamente il monitoraggio ambientale si potrebbero fare milioni di esempi, dall'evoluzione di una costa, quindi studiando le vecchie immagini o le vecchie cartografie ad oggi, oppure per esempio è stato fatto, adesso stanno facendo degli studi, utilizzando dei sistemi radar da terra che mandano un impulso per monitorare le frane e riescono ad acquisire una moltitudine di punti e quindi monitorare real time la frana di quanto si muove anche a livello di millimetri. Oppure anche un altro studio interessante è stato fatto a seguito di un incendio alla pineta di Castelporziano vicino a Roma, attraverso immagini satellitari e immagini aeree, sono stati costruiti dei modelli di propagazione del fuoco, degli incendi, e è stato quindi studiato in base alla distribuzione dei sentieri, alla presenza o meno di materiale organico morto, quindi rami a vitipino lasciate lì così in base al vento prevalente, quindi sono studiato e poi preso dei provvedimenti ovviamente per evitare o arginare eventuali incendi futuri. La pianificazione territoriale, ormai praticamente molte amministrazioni comunali hanno il loro ufficio con il loro gruppo GIS per fornire servizi sia ai cittadini che anche per turisti, quindi applicazioni, si sta molto diffondendo anche a livello amministrativo. Gestioni di rete tecnologiche, tutti quelli di cui noi siamo clienti, gestori telefonici, ad esempio mi è capitato di lavorare in Wind per un sistema GIS, ormai tutte queste grandi compagnie hanno dietro un ufficio, un gruppo GIS che si occupa delle coperture, delle reti, di tutti, la gestione dei dati dei clienti e ci hanno dei file enormi perché sarebbe impensabile poterli gestire come si utilizzava, si gestivano prima dell'avvento del GIS. Mi è capitato di lavorare con tabelle di 6 milioni di record, ma è già mi ero meravigliata, poi ho scoperto che una tabella poteva avere 120 milioni di record. Loro utilizzano come strumento di gestione il database, si chiama Database Management System Oracle, quindi lui può gestire le tabelle di 120 milioni di record. Il Catasso, che man mano si sta digitalizzando e quindi anche lui sta utilizzando i sistemi informativi, conservazioni dei beni culturali e turismo, ovviamente la prolificazione di guide turistiche, mappe nuove sentieristiche, navigatori per trekking, tutto un altro settore. Per i beni culturali posso aggiungere, per l'archeologia, che negli ultimi decenni un impulso era stato dato dalle fotografie aeree, in quanto sono state fatte anche delle scoperte interessanti grazie soltanto alla fotografia aerea. C'era un esempio, purtroppo non mi ricordo bene il sito, però era in Nord Italia, in cui, osservando una fotografia aerea, si era notato una differenza nella vegetazione, che era praticamente erbacea, e c'erano praticamente delle fasce che avevano un disegno geometrico non naturale, ovviamente. Allora poi andando a fare delle indagini, quindi scavando in quella zona, hanno trovato le fondamenta di un castello. E questo perché, proprio a pochi centimetri dalla superficie, la presenza di questo muretto, di queste fondamenta, creava praticamente un microclima diverso, e alla fine le piante, quindi la stessa specie, però su quella porzione, ovviamente trovava delle condizioni di microclima, del livello di umidità e temperatura nel suolo, e quindi si sviluppava fenologicamente diversamente. Oggi un grande impulso è dato, sempre dal terribilamento, con l'applicazione di immagini radar. E' proprio l'ultima novità, l'ultima frontiera che sta avendo un sacco di successo, e praticamente il radar, riuscendo ad arrivare a avere informazioni anche a livello sotto la superficie terrestre, sono stati trovati, stanno facendo degli studi, e praticamente riescono a ritrovare dei grossi siti, a livello appunto di città, o comunque i grossi siti di culto, proprio grazie all'applicazione delle immagini radar. Abbiamo il recupero ambientale, ad esempio, viene in mente, anche qui si potrebbero fare tantissimi esempi, viene in mente anche lungo il litorale romano, sono stati fatti delle opere di recupero ambientale contro la speculazione inilizia e anche i stabilimenti balneari, per salvare gli ambienti dunali e retrodunali, e quindi sono stati poi piantate le piante della macchia mediterranea, e si è monitorato poi il recupero ambientale, e quindi come riuscivano a riprendersi il loro territorio, ovviamente. Studi di impatto ambientale, ovviamente, quindi anche la costruzione di un'infrastruttura, da punti a bighe, una semplice strada, una discarica, hanno tutti anche per legge bisogno di un studio di impatto ambientale, e quindi si avvalgono della tecnologia accessa. Studio sul traffico e i trasporti, anche qui prima si utilizzavano delle misure dirette, che però erano molto costose, c'era l'addetto, il tecnico, che andava proprio agli incroci con la strumentazione, si contavano proprio nel tempo il tot di macchine che passavano. Adesso si fanno ancora questi studi, ovviamente, però con il GIS si sono trovati diverse tecniche per ottenere dati sul traffico in modo indiretto, e quindi studiando attrattori di traffico, usando la geostatistica, usando l'interpolazione, si sono ottenuti buoni risultati su, appunto, l'individuazione delle criticità a livello di traffico, e incrociandolo poi, ecco, con altri livelli informativi, vediamo, che ne so, una copertura del suolo, una densità abitativa, allora si possono anche individuare delle aree che poi sono a rischio, magari, di inquinamento acustico dovuto al traffico, oppure di qualità della vita, perché vanno a impattare, ovviamente, una casa, un edificio che viene costruito in una zona che è ritenuta critica a livello di flussi di traffico, ha un impatto diverso rispetto a una che ricada invece in un'altra area, magari in una stessa tipologia di edificio, e quindi potrebbe avere un valore diverso. Servizi di localizzazione, quindi dai normali navigatori che tutti utilizziamo, oppure Google Earth, Google Maps, sono tutti dei servizi che si avvalicano di questa tecnologia, la difesa della sicurezza nazionale, ovviamente, l'emergenza della protezione civile, basti pensare all'istazio idrogeologico, a tutto ciò che avviene anche dopo un disastro, una catastrofe, quindi magari la nozonizzazione, trovare delle, organizzare l'attività della protezione civile, e quindi creare delle zone di intervento, quelle che sono state più impattate dalla crisi, quelle meno, eccetera, eccetera, tutta la progettazione del loro lavoro. Il geomarketing, anche questo, le indagini, gli studi di settore, adesso si avvalgono di questa tecnologia. La pianificazione delle reti distributive, lo stesso, ormai molti gestori utilizzano per le reti distributive sistemi informativi, cartografia tematica, ovviamente. Analisi socio-economiche, basti pensare a analisi demografiche, oppure anche analisi a livello di, si fanno anche, ad esempio, in base alle aree geografiche, si va a studiare che tipologie di contratti vengono di tutto, chi più ne ha più ne mette. Infatti ho messo eccetera, che sicuramente se vi viene in mente qualcosa, che non ho scritto, è probabile, perché sono talmente tante le applicazioni, che possiamo raggrupparle in tre categorie. Quelle di inventario, quindi abbiamo un GIS che è come una banca dati giroferenziata, di analisi, quindi il GIS come strumento per elaborazione di dati e produzione cartografica, e di gestione, quindi un GIS come strumento di supporto a questioni politiche e manageriali. La differenza tra altri sistemi, abbiamo questi database management systems che riescono ad immaginare qualsiasi tipo di dato, quindi anche dati geografici, però rispetto ai GIS spesso non hanno la capacità di analisi, ma soprattutto di visualizzazione, e quindi spesso magari sono associati a un GIS, quindi come Oracle, può essere associato ad un'applicazione web, e poi quindi fa visualizzare le operazioni di analisi che uno fa. Il GPS, ovviamente sono dei dati di alta qualità, possono essere dei dati di alta qualità, utilissimi e molto spesso utilizzati nel GIS, ma anche questi, la tecnica di rilevamento richiede costi elevati, in termini di tempo, risorse e personale specializzato. E i sistemi CAD, altri sistemi informativi, che riescono a gestire delle mappe, oltre ai disegni per cui vengono utilizzati, ma ovviamente manca la capacità di analisi e gestione di grosse mole di dati, proprio sempre di GIS. Bravo, questo, ho finito questa prima introduzione, quindi se vogliamo fare una pausa, che vi vedo belli cotti, possiamo poi riprendere la seconda parte tra 5 e 10 minuti. Grazie. Seconda parte. su modelli di rappresentazione e le relazioni spaziali. Allora, nel GIS, come avete potuto capire, così sono informazioni di diversa natura, quindi abbiamo le carte, le mappe, le immagini, dati digitali, dati testuali, tabelle, dati GPS, quindi dati geografici e armonumerici. I sistemi GIS, quindi, consentono l'analisi e l'integrazione di tutti questi diversi tipologi di dati. Ora, esistono due modelli per descrivere la componente geografica della realtà. Abbiamo un modello vettoriale e un modello rastra, di cui avrà accennato il professore. Ora, quindi, un modello è un insieme di costrutti per rappresentare aspetti del mondo reale, quindi le entità geografiche e le relazioni che intercorrono tra essi e che sia il più possibile vicino al vero, quindi un buon modello si avvicina il più possibile alla situazione reale. È ovvio che resta una strazione, una semplificazione della realtà e i modelli sono costruiti a partire da principi diversi e quindi ovviamente hanno strutture diverse e rispondono anche ad esigenze diverse. Le relazioni che intercorrono tra i vari oggetti e i modelli sono studiati dalla topologia. Topologia sta per un termine derivato dal greco topos, logo, logo, su studio, che è una branca della matematica che studia le proprietà geometriche delle figure e che quindi non dipendono dalle misure ma sono legate ai problemi di deformazione delle figure stesse. Infatti, per queste tre figure che sono geometricamente diverse in un cerchio, un quadrato, un ellisse, sono figure equivalenti per la topologia in quanto sono deformabili l'una nell'altra senza che avvengano delle rotture, delle linee, delle sovrapposizioni. Quindi sono tutte delle curve chiuse semplici. Ora, possiamo rassegno ai due modelli. Il modello vettoriale. Gli oggetti vettoriali sono costituiti da degli elementi semplici che sono dette primitive. Abbiamo i punti, le linee e le aree. I punti possono rappresentare degli oggetti puntuali, qualsiasi che vi vengono in mente. Possono essere alberi, pozzi, possono essere villaggi, siti di rilevamento di qualche dato, campionamento di qualche tipo. E sono rappresentati ovviamente da una coppia di coordinate x, y, eventualmente z. Poi abbiamo le linee, gli elementi lineari, che rappresentano strade, fiumi, siepi, qualsiasi cosa che nel mondo reale può essere rappresentato da una linea. E quindi sono una serie, in realtà, le linee di punti, quindi di coordinate x, y. e poi abbiamo gli elementi areali, che possono essere dei bacini duografici, possono essere dei confini amministrativi e sono rappresentati da poligoni, quindi da archi e da punti. Quindi sarebbero i vertici, i punti e gli archi, sarebbero poi alla fine delle linee. Il modello raster, invece, rappresenta la realtà utilizzando una griglia, una griglia di righe e colonne che formano, da cui si ottengono delle celle tutte uguali e di misura. Ad ogni cella è associata una coppia di coordinate che identifica la posizione nello spazio e ad ogni cella, questo in senso generale poi vedremo le differenze, è associato un valore in genere numerico che si riferisce ad un attributo geografico, questa è la definizione che danno un po' del modello raster, ma esistono diversi tipi di raster. Il primo è un raster fisico, quindi il valore ad ogni cella è associato un valore che è la misura di una grandezza continua, ad esempio l'elevazione del terreno, quindi io posso misurare, questa è un'immagine, è un modello digitale del terreno, io posso misurare in qualsiasi punto di questa immagine l'elevazione sul livello del mare. Ora è stata colorata in falsi colori, spesso viene utilizzato questo range che va dal verde al rosso, il rosso sarebbero le zone più elevate, il verde le zone meno elevate, però poi non è che è proprio convenzionale, si possono utilizzare anche altre range di colori. Ma potrebbe essere anche una carta ecco delle tendenze, una carta della temperatura, quindi sempre questo valore è associato ad una misura di una grandezza continua nella cella, quindi ogni singola cella c'è il suo valore. Ora, a seconda di come è stato costruito il dato, il valore può riferirsi al punto centrale della cella, perché ovviamente se la mia cella rappresenta ad esempio tre metri per tre della superficie reale, ovviamente io in tre metri per tre avrò delle differenze dei punti minime, quindi il mio modello potrebbe prendere come riferimento il punto centrale di quella cella e assegna a tutti gli altri lo stesso valore del punto centrale. Oppure potrebbe essere una media di tutti i punti che ritardano in quella cella, si fa la media e il punto e sarà il valore di quella cella, quindi tutti i punti avranno un valore medio. Oppure poi potrebbe essere un valore estremo, quindi un valore minimo il più grande o il più piccolo della cella, a seconda appunto delle esigenze di come viene costruito, ovviamente ad esempio per una carta della temperatura delle temperature più basse di ogni cella avrà preso il valore minimo di quella cella, ad esempio. Poi abbiamo un raster classificato in cui i valori delle celle sono numeri interi a cui è associata una tabella come negli shapefile vedremo ed è ottenuto in genere da un raster fisico, quindi come il precedente e viene riclassificato da noi. Quindi ad esempio in questo caso abbiamo una tabella di copertura del suolo, abbiamo zona di bosco, zona paludosa, zona agricola, zona urbanizzata e quindi abbiamo un quell'attributo l'attributo bosco identificato con il verde e con il valore 1 me lo ritrovo nella parte destra del mio raster e quindi tutte quelle celle hanno quel valore 1 che significa bosco e sono nove c'è un contatore poi c'è un altro campo che misura la somma l'area totale e così per le altre classi. Poi esistono a volte dei noddata quindi a volte capita che per qualche motivo non sono stati rilevati quei dati potrebbe essere per ad esempio una copertura nuvolosa che non è stata eliminata e quindi diventano delle zone noddata però comunque è sempre specificato nella tabella che valore viene dato a queste noddata. Poi abbiamo il raster di un'immagine quindi ogni cella del raster non stiamo parlando di immagini satellitari che voi sapete quindi che la radiazione solar arriva sulla superficie terrestre una parte di questa superficie viene riflessa una parte viene assorbita e quindi poi emessa e quindi i sensori rilevano poi le risposte e poi tramite il processamento si arriva all'immagine satellitare. Ora e potrebbe essere anche però un impulso a partire da un sensore artificiale da fonte artificiali come i radar quindi lanciano un impulso e misurano la risposta. Ovviamente in questo caso ogni cella è associato a un numero che esprime la quantità di energia elettromagnetica che viene riflessa da quella porzione di superficie. in questo caso quindi che è un raster immagine la cella prende il nome di pixel anche qui spesso viene utilizzato improvviamente anche in altri casi però si parla sempre della stessa cosa però per correttessa bisognerebbe usarlo soltanto nel caso di sistemi informativi grafici delle immagini. Poi abbiamo un altro ancora tipo di raster che è raster cartografico in questo caso il valore nelle celle non ha alcun significato né di radiazione elettromagnetica né di un valore calcolato come i raster fisici né un valore classificato è un valore binario ad esempio questo è venuto dalla scenerizzazione di una cartografia di una vecchia taboletta e quindi corrisponde alla presenza o meno del tratto grafico in quella cella quindi ecco non si tratta di un attributo geografico né di una classe di appartenenza ora riuniamo un po' i due modelli a confronto nel mondo diciamo vettoriale dei punti sarebbero rappresentati come in alto a sinistra e invece il raster assegna quel valore 1 a tutta la cella nel secondo caso dividiamo le linee come i due modelli sono rappresentate in fondo delle aree dei poligoni questo sempre confrontando i due modelli questo è un modello sempre di copertura del suolo perché vediamo non è associato al vettoriale la leggenda ma sarebbe praticamente la stessa dove arancione l'ambiente costruito il blu acqua verde scuro foreste verde chiaro zone paludose e sono due modi quindi di rappresentare la realtà nel primo caso si notano i poligoni che sono le aree piene che sono delimitati da i vertici che sono punti e dagli archi che poi volendo alla fine si tratta sempre di linee che a loro volta sono imposte da punti ora c'è da dire che questi sono due modi di interpretare la realtà in genere non è proprio sempre così però in generale si può dire che il vettoriale è applicato ai dati discreti il raster ha quelli continui un dato discreto esempi quindi che hanno una distribuzione discontinua si tratta di elementi reali che hanno dei limiti ben precisi quindi ad esempio questi edifici dei fiumi dei confini regionali di strade qualsiasi altra cosa vi può stare in mente di questo tipo e quindi in alto a destra abbiamo sono dei bacini idrografici quindi c'è l'asta principale tutti i vari affluenti secondari poi abbiamo in basso delle piante degli edifici e poi abbiamo se non ricordo male sono dei punti di gps di alberi di una tipologia di specie che sono stati rilevati quindi sempre si tratta tre casi tre esempi di distribuzione discreta discontinua infatti nella stessa mappa io ho punti con il dato e punti senza il dato nel modello continuo che invece era appennato dei raster la distribuzione è appunto continua quindi sono in funzione della posizione io li posso misurare in qualsiasi punto della mia immagine sempre in alto abbiamo un altro modello del terreno sempre in rosso sono digitali del terreno in rosso sono le zone più elevate al centro vedete c'è una valle quindi le zone più che man mano degradano di elevazione sul livello del mare fino a arrivare presumibilmente è un corso d'acqua che la incide e in fondo invece abbiamo un'immagine ad alta risoluzione anche questa è una distribuzione continua questo è un dettaglio di Roma sicuramente avete riconosciuto San Pietro e Castelfontangelo e quindi questo è il modello continuo ora parliamo sempre confrontando i due modelli raster vettoriali di risoluzione per quanto riguarda il modello vettoriale noi possiamo modificare i dati possiamo arrivare in tutti i software sia open source che a pagamento ci sono gli strumenti dei tool per zoomare quindi zoom in e zoom out e se voi provate a zoomare su una linea di un vettoriale continuate 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 avrete sempre la stessa definizione perché appunto è la qualità si parla che è un modello scalabile perché è indipendente dalla risoluzione mentre per quanto riguarda i raster ovviamente invece dipendono dal numero questa definizione che dipendono dal numero di celle quindi dei pixel nell'unità di misura che è in genere il pollice quindi poi alla fin fine in soldoni dipende dalla grandezza della cella quindi più piccola più sarà l'altra risoluzione più grande e meno sarà l'altra risoluzione ora abbiamo visto che sono due modelli per rappresentare la realtà ma e si può passare da un modello all'altro a seconda delle esigenze però ci sono appunto abbiamo detto dei tipologi di dati che si possono rappresentare solo in un modo e tipologi di dati solo in un altro o che comunque non ha senso ad esempio se io ho un confine amministrativo quindi ho questa linea delinea il confine comunale non ha senso riprodurlo in un raster come il raster e si passa da un modello all'altro a seconda dei casi ad esempio se io sto lavorando con una serie di dati raster su ad esempio dati climatici quindi del 2000 2001 poi guarda caso c'è oppure di copertura del suolo quindi differenze di copertura del suolo di diversi anni poi guarda caso era disponibile invece per l'anno 2010 solo un vettoriale di questo dato quindi come abbiamo visto sopra ecco qua una carta di copertura di uso e copertura del suolo di vettoriale per fare determinate analisi sul vedrete poi nei successivi giorni proprio praticamente di addizioni di risultazioni confronto io devo lavorare con modelli dello stesso tipo per alcune tipologie di analisi quindi in quel caso varrebbe la pena di trasformarlo e ci sono dei tool specifici per passare da un sistema autoreale a un cluster a un cluster comunque dipende poi caso per caso dalla tipologia del dato e appunto se vale la pena o meno insomma non tutti i software però questi lo possono fare sempre i due modelli a confronto vediamo un po' vantaggi e svantaggi il primo modello occupa poca memoria si possono tenere anche il tipo PC tanti dati vettoriali l'outbook grafico ovviamente è più apprezzato anche il professore prima diceva l'outbook grafico vettoriale è più apprezzato il modello raster la struttura dei dati è più semplice sono più semplici le analisi le procedure spaziali come svantaggio che alcune analisi nel modello vettoriale sono più lavorose perché hanno una struttura molto più complessa e invece il modello raster serve molta memoria quindi molto spesso vengono questi raster messi su hard disk esterni oppure vengono utilizzati tagliando nella porzione di interesse quindi lasciando tutto l'altro resto dell'informazione eliminandola proprio perché occupano tantissima memoria e poi soprattutto perché ecco magari lavorando con un open source un grosso file raster potrebbe appesantire i processamenti quindi potrebbe rallentare addirittura interromperli e quindi sarebbe più utile tagliarlo sulla zona di interesse e lavorare per piccole porzioni o ad esempio mi è capitato appunto di lavorare con un dato molto molto pesante allora poi abbiamo trovato l'escamotage di lavorare per piccoli settori e poi incollare insieme quindi dipende un po' dalle situazioni e la rappresentazione delle elezioni topologiche ed alcune procedure trasformazioni proiettive ecco cambiare da un sistema a un altro con i raster sono operazioni più complesse rispetto a un vettoriale ora vediamo un po' i formati di dati allora qui ho messo parleremo un po' dei quelli più comuni anche perché negli anni c'è stato un aumento della tipologia di dati diffusi anche perché molto spesso questi software proprietari come la ESRI e l'Intergraph poi hanno creato ad hoc il loro file per esempio lo SHU file è il formato più comune per la gestione dei dati vettoriali e allora Geomiglia si è creato il proprio che ovviamente così com'è non lo posso utilizzare in un altro sistema e allora viene convertito prima ci sono diversi passaggi di file che fanno da intermediari insomma ci sono un gran numero di questi file di diversi insomma di proprietari adesso noi vedremo un po' quelli più famosi quindi lo SHU file il grid file il TIN e poi una serie di altri formati lo SHU file abbiamo detto per i file vettoriali contiene quindi la geometria e gli attributi ora attributi ve lo anticipo anche se poi ne parleremo domani nel capitolo delle tabelle che ovviamente se voi pensate a una mappa che è formata ecco come quella che ho fatto vedere prima di copertura del suolo da diversi poligoni poi quella tabellina accanto sarebbe l'attributo quindi a ogni poligono è associato dietro una tabella con il suo record e il suo valore questo è in linea generale quindi il formato vettoriale contiene la geometria quindi posso vedere il mio poligono e gli attributi posso vedere la tabella di un elemento spaziale possono essere lo SHU file può essere di tipo punto quindi possono essere linee possono essere poligoni io li posso mettere tutti insieme nel mio GIS nel mio sistema informativo farli interagire tra di loro perché comunque sono sempre dello stesso tipologico lo SHU file comprende tre file con lo stesso nome ma con estensioni diverse abbiamo il file SHP che è il file che contiene la geometria il file DBF che contiene gli attributi e quindi il database la tabella che c'è dietro e il file contenente l'indice delle geometrie SHX ora questi vengono usati ovviamente come un pacchetto anche se ad esempio il DBF può essere aperto da altri programmi voglio non so non posso visualizzare la mappa però voglio accedere ai dati io posso aprirmi il DBF ad esempio su Microsoft Access posso aprirmi con altri sistemi oppure posso magari ecco capita che devo nel mio sistema informativo mi serve una tabella di riferimento che però non ha una componente spaziale o comunque in dato poi la mappa non era fornita magari da un gestore però comunque posso importarmi il DBF e poi relazionarlo alle altre tabelle degli altri shapefile degli altri layer quindi lo visualizzerò come tabella ci potrò accedere come tabella sempre lo shapefile e altri file opzionali se esiste una leggenda ci sarà un file che contiene la leggenda di estensione AVL poi ci saranno altri file che hanno degli indici particolari indici spaziali indici sui attributi con altri tipi di estensioni SBN SBX estensione IH AIN e poi ci sono questo è un altro file interessante perché è il file che contiene i metadati anche qui anticipando per chi non sa il metadato è la descrizione del dato ovvero come è stato costruito in che sistema di riferimento chi l'ha distribuito chi l'ha pubblicato insomma tutta una serie di dati che poi chi pubblica una determinata mappa cartografia decide di rendere pubblico o meno dipende e poi ci un file contenente le informazioni sul sistema di coordinate che è l'estensione PRJ però anche questo è opzionale non sempre lo si trova spesso si trova a letto coordinate sconosciute allora uno poi se conosce come è stata la zona che rappresenta e io sto lavorando in un determinato sistema di coordinate gli indico di assegnarli quelle stesse coordinate per visualizzarlo nel mio GIS poi comunque anche queste cose le vedrete a livello applicativo sarà molto più immediato di queste nozioni teoriche che io vi sto dicendo sicuramente in pochi passaggi capirete e afferirete subito la meccanica di queste cose abbiamo anche un layer file perché io il mio shape file lo posso personalizzare quanto voglio quindi posso cambiare i colori i contorni a seconda delle misigenze se ad esempio io voglio mettere in rilievo un aspetto piuttosto che un altro voglio che le strade principali abbiano uno spessore diverso rispetto alle secondarie qualsiasi cosa io le posso cambiare e la cosa molto utile è che si può salvare queste modifiche che uno fa in modo tale che ogni volta che io riaprio il mio programma e ricarico quei dati io posso ricaricarmi questo layer file e quindi lo riprendo come l'ho lasciato quindi con le modifiche che ho fatto e può essere anche richiamato per successivi lavori per dire ah magari in un secondo momento rilavoro di nuovo sulle strade per esempio e voglio di nuovo ridare quello stile quindi che le principali siano nere spesse tot e quelle secondarie rosse e quindi richiamo questo file e lui me lo assegna al nuovo e si possono anche costruire dei gruppi di file gruppi di layer sempre con questi specifici parametri e proprietà che posso richiamare secondo le mie esigenze il formato grid che è un formato ecco proprietario della ESRI è un formato raster quindi è sempre questa matrice di righe e colonne che genera le celle a cui sono associati i valori è un pacchetto di diversi dati con diverse estensioni ecco però per esempio questo qui file ESRI grid non potrebbe essere aperto da alcuni software e allora viene esportato come ASHI grid che è un formato non proprietario che consente appunto di importare e esportare prodotti grid in altri prodotti quindi alla fine il risultato io avrò la stessa visualizzazione però ecco questo ASHI grid che è un file unico mi permetterà di importare un grid file e così nel dettaglio nell'ASHI grid c'è una parte di intestazione che mi descrive la tabella quindi n colonne n righe con quante grande la cella e poi ci sono come vengono rappresentati i node data se ci sono e poi tutta la serie di valori e quindi questo è un modo per importare quindi un dato raster in altri sistemi poi abbiamo il formato TIN il formato TIN considera lo spazio come tanti triangoli di diversa misura e non sovrapposti e ci costruiscono in genere i modelli digitali del terreno sono stati anche costruiti con file grid però sono meno apprezzati perché proprio a livello di come costruiscono poi a partire dai punti con il valore della quota come costruiscono il sistema di interpolazione fa sì che il sistema TIN restituisce un file più apprezzato il grid tende a perdere informazione nelle zone di montagna in zone non rilevate e invece c'è un'abbondanza di punti nelle zone pianeggianti quindi vengono costruiti questi nel TIN questi triangoli a partire da dati che hanno coordinato il sezione Z ora per quanto riguarda le immagini abbiamo il TIF che è un formato molto diffuso anche per la sua qualità e spesso si trova sia con estensione TIF che TIF MF sola è la stessa cosa il TIF praticamente rispetto al TIF si porta dietro la componente geografica quindi il dato geografico l'Igm è un altro formato file immagine che è utilizzato dalla Airbus che è un altro software che gestisce più dati telerilevati e quindi però molto spesso ci si trova il sistema gista di importare i dati IMG il JPEG il bitmap sono conoscete tutti dei formati immagini il primo compresso quindi va a perdere delle qualità dell'informazione praticamente il formato bitmap invece non compresso con estensione BMP che è stato sviluppato dalla Microsoft questo in generale spesso vengono utilizzati come layout quindi magari costruisco la mia mappa poi la voglio esportare la voglio stampare e quindi si può fare o in genere si usa il pdf però anche in JPEG ma in diversi formati poi è seconda del software che utilizzerete ma spesso capita mi è capitato di avevamo una zona un'area di studio che era praticamente stata disegnata sopra una cartina stampata e poi scannerizzata insomma e alla fine era un JPEG e io dovevo riprendere questo confine di quest'area di studio e importarlo nel mio GIS da un JPEG quindi senza la componente geografica ovviamente quindi si può fare si importano a volte perché capita si deve georeferenziare quindi una volta che l'avevo georeferenziato quindi sovrapposto al mio GIS ho potuto poi disegnare il profilo e quindi creare un poligono che coincidesse con quel profilo e poi l'ho utilizzato insomma poi dipende dai classi ora passiamo a vedere un po' i concetti spaziali le relazioni spaziali allora diciamo che comunque anche il professore aveva detto che le carte le mappe sono comunque una frazione soggettiva se uno ci pensa anche dipende da che cosa uno vuole rappresentare ovviamente se mettere in risalto più una tematica rispetto che un'altra però implicitamente ci forniscono dei dati spaziali quello di cui parlavo prima della distribuzione comunque analizzando la distribuzione arriviamo a dei livelli di informazione diversa superiore mettendo in relazione dopo le diverse oggetti ora in livello ce ne esistono tantissime di tipologie di riduzioni speciali queste sono le principali abbiamo nelle mappe che possiamo trovare tre elementi una relazione di connettività quindi ad esempio possiamo avere questa linea rossa potrebbe essere una linea ferroviaria e i punti gialli le varie stazioni ad esempio oppure potrebbe essere una rete idrica e quelli sono delle pompe degli idranti quindi connettività gli elementi sono connessi tra loro uno fa parte della struttura dell'altro poi abbiamo le relazioni di adiacenza due oggetti geografici che hanno sono appunto una adiacenza all'altro potrebbe essere A potrebbe essere un'area naturale B potrebbe essere una città quindi tutte le relazioni che possono esserci in quel lato della città potrebbe beneficiare della vicinanza di un'area verde rispetto all'altro lato oppure di contro l'area verde può essere quella zona che a contatto con l'area urbanizzata può avere dei disturbi e l'altra no quindi dà lo spazio ad ampie riflessioni la relazione di intersezione quindi un elemento taglia l'altro potrebbe essere un fiume che taglia un'area protetta potrebbe essere una strada che taglia un'area protetta ad esempio oppure non lo so non mi viene più in mente niente oppure con un'altra relazione di contenimento quindi un elemento è contenuto di un altro posizione relativa sta a nord-est quell'aeroporto sta a nord-est della città andiamo a vedere che cosa può influenzare ci sarà un inclinamento acustico un inclinamento delle polveri in quella parte a nord-est di quel sito quindi sempre bisogna porre attenzione alle relazioni spaziali tra gli oggetti la differenza di quota A e B non so A potrebbe essere una discarica e B potrebbe essere un paese quindi ovviamente ponendo una discarica a un livello di quota superiore ad un paese ovviamente potrebbe il percolato andare a inquinare la falda che potrebbe provocare danni al centro abitato a valle quindi questi sono sostanzi dei piccoli esempi per farvi capire l'importanza delle relazioni spaziali ora la scala di una mappa tutti sapete che la scala è il rapporto tra una lunghezza misurata sulla carta e la corrispondente lunghezza nel mondo reale viene espressa sempre dal rapporto una N una 50.000 una 100.000 eccetera eccetera quando N è piccolo ora in generale viene non è proprio una convenzione però in generale viene considerato minore di 150.000 si parla di scala grande infatti si fa sempre confusione che N piccolo scala grande N grande maggiore di 150.000 scala piccola quindi N maggiore 1 a 1 milione una carta di una nazione un planisfero sarebbe scala piccola la carta della mia città di Castrignano è scala grande oltre alla scala numerica esiste anche una scala grafica che ne esistono di tutti i tipi sarebbe la rappresentazione grafica di questo rapporto e quindi sono queste asticelle segmentate in cui viene spesso il rapporto e in questo caso abbiamo sono espresse in chilometri ma potrebbe essere spesso in miglia in diverse unità di misura ecco ora bisogna fare molta attenzione perché nei sistemi informativi geografici il GIS è un sistema multiscala ora io posso importare nel mio GIS dei dati che sono stati costruiti con scale diverse per esempio una carta geologica 1 a 100.000 una carta invece non so di un altro tipo 1 a 5.000 quindi bisogna sempre tenere presente la scala del dataset che io sto importando perché soprattutto quando si vogliono fare dei confronti tra di loro ovviamente se io devo devo non so bisogna c'è un progetto di però per dire se io sto operando con dei dati precisissimi e poi utilizzo una carta 1 a 100.000 non ha senso bisogna un attimo sempre considerare la scala a cui si sta operando e soprattutto quando si costruisce da noi una carta ex novo ad esempio con la foto interpretazione quindi io ad esempio ho una fotografia aerea di solito o satellitare anche aerea e devo foto interpretarla e assegnare delle classi di copertura del suolo allora quindi la devo costruire ex novo il problema sta che io non posso ovviamente dove mi è chiaro io subito classifico questo è bosco questo è città questo è tessuto urbano discontinuo e dove non mi è tanta chiara l'immagine io con il gisto ho la possibilità di zoomare tantissimo vado nel dettaglio e dico ah no vedi qua c'è pure quest'altra cosa allora segno due elementi magari distinti però se uno fa alla fine il risultato sarebbe una carta che in alcune zone ha un dettaglio e in altre zone c'è un altro quindi alla fine è importante quando si fa una carta ex novo stabilire io voglio produrre una carta a una 10.000 quindi mi metto lì nelle finestre insomma nella barra del mio software mi dice la scala a cui sto in quel momento e cerco di rimanere a quella scala ovviamente c'è un range che io posso avvicinarmi un pochino o scostarmi un pochino però non posso ampliare troppo questo range perché altrimenti ovviamente anche se nel primo poligono che ho detto è tutto bosco se io andavo allo stesso dettaglio come sono andata in quel punto che non riuscivo a capire magari avrei scoperto un'altra zona un laghetto non lo so che non si vedeva e quindi l'avrei cartografata e quindi bisogna sempre mantenere una coerenza da questo punto di vista e anche l'unità minima cartografabile io decido che la mia unità minima è un chilometro quadrato quindi io posso cartografare elementi di un chilometro quadrato se il mio laghetto è inferiore o il mio edificato è inferiore a un chilometro quadrato non lo devo cartografare proprio per parametri di coerenza le carte geografiche possono essere classificate secondo tre chiteri la scala il contenuto e il metodo di costruzione ora ho fatto un po' una panoramica sulle diverse tipologie di carte che possono essere comunque utilizzate richiamate importate sul GIS con la scala noi distinguiamo piante e mappe spesso anche questo è un altro termine abusato mappa mappa significa ecco nello specifico sono rappresentazioni di aree rurali naturali con scala maggiore di una 10.000 le carte invece che riguardano la planimetria di centri urbani sono dette piante poi sempre secondo la scala abbiamo delle carte topografiche che sono di largissimo uso con scala che va da 1 a 10.000 a 1 a 150.000 e sono carte comunque dettagliate sia per gli elementi naturali che antropici poi abbiamo le carte coreografiche con scala 1 a 150.000 o 1 a 1 milione scusate che rappresentano un porzione abbastanza grande della superficie terrestre spesso si tratta di carte regionali o comunque carte utilizzate che hanno un dettaglio alto per quanto riguarda le strade le vie di comunicazione le linee ferroviarie tutta questa tipologia di attributo poi sempre secondo la scala si distinguono le carte geografiche con scala minore di 1 a 1 milione e rappresentano porzioni molto estese della superficie terrestre quindi si tratta di uno più stati di interi continenti oppure il planisfero anche il planisfero e i mappamondi rientrano in questa categoria di carte invece passando al secondo criterio che è il contenuto di una carta distinguiamo carte generali che rappresentano le conoscete tutti le avete viste sicuramente sono le carte quelle fisiche che quindi rappresentano elementi naturali le carte politiche quindi i confini amministrativi e più abbiamo anche un mix possibile di carte fisico-politiche che hanno entrambi gli attributi sempre riguardo il contenuto possiamo riconoscere che sono tantissime di carte speciali ad esempio le carte nautiche questo è un esempio di carta nautica in cui è importante riportare la profondità del fondale marino la linea di costa i porti vengono riportati ovviamente sia quelli turistici che quelli non turistici i fari tutta una serie di elementi che magari in un'altra cortografia non verrebbe rappresentato oppure le carte nautiche lo stesso hanno la simbologia e i loro riferimenti le carte turistiche basta pensare le carte sentieristiche sono tantissimi esempi poi abbiamo carte tematiche che riguardano particolari aspetti biologici ad esempio una mappa delle temperature medio-minime o biologici o fisici o ecco anche antropici questa è la distribuzione della popolazione in Europa quindi delle carte tematiche ce n'è una grandissima produzione l'ultimo gruppo è le carte che sono state costruite a partire dal metodo di costruzione appunto che sono le carte rilevate e le carte derivate le carte derivate sono costruite a partire da misure dirette sul terreno fotografia aerea invece le carte derivate sono come dice la parola stessa derivano dalle rilevate ma con tutta una serie di semplificazioni di riduzioni a seconda sempre delle esigenze ora negli ultimi decenni ha avuto un grande impulso la rappresentazione di grosse tramite fotografia di grosse porzioni della superficie terrestre che sono scattate da aereo oppure da fatelli e di questo ha portato a queste aereo fotografie hanno portato alla costruzione anche di essere considerate delle carte geografiche vere e proprie perché comunque a partire da esse vengono costruite queste carte rilevate perché ovviamente mancano della simbologia della leggenda che è una carta vera e propria questo ad esempio è il planosfero che è stato costruito con i dati dell'Envisat del satellite dell'agenzia spaziale europea che sfortunatamente ha finito la sua gloriosa la carriera nell'aprile e quest'aprile hanno provato a risistemarlo da remoto quindi da terra ma non c'è stato niente da fare quindi è finita la missione in visata adesso invece hanno proprio da quest'anno in aprile c'è stato su internet penso sia pure che cercate le riprese del lancio che c'è stato del primo nuovo satellite di una famiglia di satellite delle sentinelle che verranno lanciate quest'anno è stato il primo poi nei prossimi anni altri satelliti proprio su equipaggiati di strumenti più sofisticati che abbiamo adesso per Earth Observation l'osservazione della terra dati sia radar che ottici sicuramente e adesso stanno già dando i primi dati insomma e abbiamo anche le ortofoto le ortofoto avete sentito già parlare è una fotografia aerea che è stata corretta geometriamente e già referenziata quindi orto gritto simile al greco quindi orto rettificata in modo tale che sia uniforme in tutte le sue parti e che la scala sia uniforme in tutte le sue parti della foto perché ovviamente molto spesso dall'aereo ci sono gli errori che vengono dall'inclinazione dalla topografia quindi queste correzioni fanno sì che diventi un ortofoto e che si possa ad assimilare ad una mappa così adesso ecco un cenno sulla cartografia storica ci abbiamo tantissimi dati anche tantissime carte classificate carte storiche che alcune hanno degli hanno sono state costruite con dei criteri di omogeneità che insomma che quindi possono essere importate anche in un gis utilizzate ma ad esempio questa qui che dovrebbe essere il lago di Como quello in basso a destra ovviamente non ha questi criteri perché non lo riconoscete neanche forse se non ve lo dicevo io non ha questi criteri di omogeneità con cui è stata costruita anche perché molto spesso ci sono delle carte antiche che seguivano più degli stili estetici piuttosto che dei canoni estetici piuttosto che delle rigorose geometrie proprio per costruire una carta e quindi sarebbe impossibile per esempio importare questa mappa in un sistema informativo perché proprio le relazioni tra diversi punti non sono reali e quindi però sono delle carte che ci possono dare comunque delle informazioni così per finire questa panoramica l'Atlante è una raccolta sistematica di carte a piccola scala di regioni di continenti che sono quindi numerose carte anche comprese numerose carte tematiche speciali e proprio Atlante nasce come termine che ha un eco nella mitologia greca e latina e richiama una collezione di carte del famoso geografo Mercatone a cui dire proprio il nome è Atlante e da qui poi i nostri di Atlante quindi questo dato su anche andare a ricercare la cartografia storica perché comunque per costruire un buon sistema informativo geografico bisogna basarsi un po' su tutta la tipologia di dati che possiamo avere a disposizione quindi andare a vedere anche i dati in letteratura dati anche testuali se uno deve fare una ricerca veramente approfondita e anche l'evoluzione di un paesaggio le dinamiche che intercorrono in un determinato territorio deve andare a studiare anche tutti questi altri aspetti quindi non guardare soltanto un settore limitato ma anche ampliare la propria visione ad altri aspetti che possono da cui si può comunque trarre informazioni io con questo avrei finito se voi avete delle domande delle curiosità posso dirvi questa qua iniziale un'immagine satellitare queste le mie zone sono io sono romana ma abito ai castelli romani questi sono i castelli romani questa è una foto lansat una foto satellitare a falsi colori che mette in evidenza in rosso sono tutte le parti vegetate mentre in quello azzurrino che vedete sarebbero le costruzioni questo è il vulcano laziale quindi abbiamo sulla destra vostra pure penso vedete il lago di Albano di Castel Gandolfo subito dietro si intravede il lago dei Nemi che sono due crateri vulcanici oggi riempiti da questi laghi e poi si vede invece a sinistra era un vecchio cono all'interno di un cono più grande era una struttura complessa e questa immagine è appunto un'immagine di lansat che è stata sovrapposta a un modello digitale del terreno il famoso modello che riporta l'elevazione della superficie terrestre e si possono ottenere queste immagini interdimensionali spesso utili anche per studi di geomorfologia ma anche tantissime altre applicazioni per esempio perché mette in evidenza delle forme ed è utilissimo perché io a quel dato lì a quelle determinate forme del paesaggio io vedo che cosa c'è che cosa c'è c'è un bosco c'è una città c'è che uso del suolo c'è ci sono delle coltivazioni e tantissime poi altre studi ovviamente applicazioni in basso a sinistra se vedete questa linea marcata è praticamente una forra è un vallone e infatti guarda caso intorno è tutto costruito nel vallone che è una gola proprio stretta così è rimasto il bosco infatti è rosso questo è soltanto così per curiosità grazie 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 poi ci vedremo domani e parleremo appunto delle coordinate le tabelle principali strumenti operativi la simbologia l'introduzione al terri rivelamento gli standard OGC e poi che risorse sul web ci sono poi dicevamo insomma tutti i file con diverse estensioni che riguardano una singola tavoletta se così possiamo chiamarla ma quando io poi rielaboro ad esempio gli attributi nel software l'estensione del file cioè il file con estensione dbf che è quello riguardante gli attributi se non ricordo male si modifichi in automatico ah ok poi vedrete il salvataggio poi dello shell file del lavoro effettuato nel software sono legato poi vi farò ah aspetta vabbè non vi anticipo vi farò vedere domani però concettualmente sia uno shell file che ci sono poligoni no? anche le province della Puglia e io dietro le province della Puglia non so c'è non so il numero di abitanti poi magari voglio prendere questa regione questa provincia e non le altre e cambiare aggiornare il numero di popolazione quindi il dato che c'è dietro la tabella di BF oppure ad esempio scusa un altro esempio forse più esemplificato un altro poligono di un altro tipo io oppure anche una volta succede che nelle zone comunali cambiano i confini per esempio nella mia zona è successo il comune di Grottaferrata negli ultimi anni ha avuto una porzione non so per quale decisione politiche quindi è cambiato il suo confine quindi loro hanno cambiato il loro shell file ovviamente cambiando lo shell file graficamente quindi dalla mappa in automatico il di BF quindi la tabella che c'è dietro si aggiorna perché ad esempio c'è il campo dell'area della superficie quindi aggiungendo quella persona mi cambia la superficie lui automaticamente aggiorna la superficie quindi poi nel salvataggio generale si salvano automaticamente tutti i file con le diverse estensioni che sono legati quindi tra di loro sì sì qualsiasi modifica file ricade su tutti gli altri va bene grazie 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 grazie